Ciao ragazzi, ecco mi chiamo con noi, che sono il real royal smug, oggi faremo un video di crash royal, dove giocherà la mia cucina prende il disco, eccomi, vabbè non si vede, Marco, Marco là, vedete, vabbè comunque, mettiti così e comincia la partita con Marco, con Marco, ovviamente è un po' io, ma il minatore è come l'agendale, la parte, c'è, 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 c' campione, il minatore è bellissimo, tantissimo, oggi faremo una gala dei minatori, un numero dei minatori più grandi del mondo Marco, sono ancora 2-10, guardate, Marco sono già 2-11.. Ho già Yitato Slurde, guardate Oriente Inferno Politico ho訂ato il 3-10 ok andando a seguire anche su slime tutto questo ha cominciato la battaglia ragazzi cominciato la battaglia contro Marco ragazzi la prima volta che faccio con questo video questo non l'ho mai voluto fare visto che mi chiamo i'm channel ho cambiato le forze nomi metto le nomi e mi ce la faccio tra poco ho comprato la video camera un vero cavalletto perché comincia quello là del microfono perché io non mi trovo molto bene come il cavalletto normale mi trovo molto più meglio con questo e comincerò a fare i video con questo coso e con i4day che mi trovo sulla e6 ho fatto un senso che la dico e poi ci ricomincerò a fare i video perché non mi vedo non mi vedo ma che la dico non mi vedo no al non non mamma mi un'altra un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più l'articolo l'articolo vi lascio il link giù in descrizione aspetta o vai tanto guarda che mi fai visto, non mi fai visto, non mi fai visto, non mi fai visto io io almeno la stagione a tutti quanti stupeggi Marco Grillo, Francesco Palli, Antonio Minofoli oppure Antonio Cavallo seguite il caso di Lorenzo io l'ho andato qui dove vedo il video online e mi vado a trasformare e ho saputo che oggi che è 21, io questo lo pubblicherò in 22 e ho visto che... Marco ma se tu metti la roba l'articolo 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 25 secondi mi fai tornare mino qualcosa, mino, mino mino, mino mino, mino 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 l'articolo l'articolo ma tu hai pa' roba eh l'articolo l'articolo e perci tu hai sconti l'articolo in battaglia molto l'articolo l'articolo non abbiamo lo specchio allora sabato o domenica uscirà questo video l'articolo farò un video come si dice l'articolo 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 e poi ve lo farò vedere qui piano piano sempre con l'articolo 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 capdolino Я peggio STOPPOLINO agudo si fantacolo si ca rut